Il sorcio di palazzo e il sorcio d'orto, fiava del molise. Un sorcio, mentre stava rosicando una forma di cacio in dispensa, si prese un così brutto spavento dal gatto di casa che, senza saperne anche lui come, si ritrovò in mezzo all'orto. Si nascose sotto una pianta d'insalata e cominciò a pensare. Pensa e ripensa, si ricordò che la buonanima di suo padre gli aveva parlato una volta ad un suo compare sorcio campagnolo che abitava nell'orto sotto un fico e gira e rigira trovò la tana ed entrò. Il compare di suo padre era morto anche lui, ma c'era il figlio. Fecero conoscenza e il sorcio campagnolo si profuse in tante cerimonie che il sorcio di palazzo per due giorni si scordò la dispensa, il cacio e il gatto. Ma il terzo giorno, dei torsoli di rapa non poteva più sentire neanche l'odore e disse, compare, è ora che ti tolga l'incomodo. E perché mai compare? trattieniti almeno un altro giorno. No compare, ma aspettano a casa. E chi t'aspetta? Uno zio, anzi, ti faccio una proposta. Vieni tu ad accompagnarmi, facciamo colazione insieme e torni indietro. Il sorcio campagnolo, che non stava nella pelle di vedere la casa ad un topo di palazzo, accettò e si avviarono. Fuor dall'orto si arrampicarono per un pergolato ed entrarono per il finestrino della dispensa. Che galanteria di casa! Fece il sorcio campagnolo. E che buon odore! Scendi giù, compare, non far cerimonie, fa come fossi in casa tua. Grazie, compare, sai, io non son pratico e posso perdere la via del ritorno. È meglio che rimanga qui sul davanzale. Allora aspetta! Fece il sorcio di palazzo e scese solo. Mentre si avvicinava a un pezzo di lardo, il gatto che stava appostato gli saltò addosso e l'afferrò. Zizi, zizi, strillava il poverino. Al sorcio di campagna venne il batticuore e pensò. Cosa dice? Zizi, zizi, allora è questo lo zio? Bella accoglienza gli ha preparato. Se a lui che suo nipote lo riceve così, figuriamoci cosa farebbe a me che non mi conosce neppure se gli capitassi davanti. E con un salto ritornò nell'orto. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!